Matteo Salvini vuole arrivare a Palazzo Chigi con la forza del consenso popolare. I sondaggi di adesso sono ancora fragili, quando l'albero sarà maturo i frutti saranno nostri, pronostica chi gli sta vicino e apprezza la linea del segretario, è come se la competizione nei sondaggi con l'alleato Fratelli d'Italia fosse qualcosa di contingente, destinata a spegnersi con i primi risultati concreti del governo di Mario Draghi. Da più parti è stato scritto che tra gli obiettivi di Salvini ci sia la trasformazione della Lega in un grande movimento liberale e popolare per attrarre gli orfani di forza Italia. E con gli stessi referendum entra in campo quel garantismo che abbandona definitivamente la riserva giustizialista, non è da solo il leader, nella battaglia referendaria che ha abbracciato con il partito radicale. La Lega lo sta seguendo come un sol uomo, se è vero come vero che sono bastati due weekend per raggiungere già oltre 200.000 firme per ognuno dei sei quesiti. Militanza nel territorio e peso degli amministratori assieme alla trascinante campagna del leader fanno dell'obiettivo del milione di sottoscrizioni rispetto alle 500.000 adesioni necessarie un risultato a portata di mano. E alle cifre che arrivano dai banchetti leghisti vanno sommate le firme che metteranno assieme le altre formazioni politiche aderenti ai referendum e quelle raccolte nei municipi?